Salve a tutti ragazzi, dopo un po' di tempo che non entravo a giocare dentro Robocraft, rieccomi finalmente con i miei robottoni E sono terzo in classifica, quindi molti sembrano essere calati ragazzi Sono rimasti Jago2000 e Mattgro sopra di me, quel Mattgro non scende mai, monnoggio, monnoggio Allora, il robot è rimasto più o meno lo stesso, c'è stato solo qualche aggiornamento nei blocchi come al solito perché non ho fatto tanti punti Ho qualche RP però non sto qui ad evolverlo adesso perché se no ci metto troppo tempo E vado a fare qualche ranked se riesco insieme a un nostro fan che ha accettato, ok Quindi andiamo a fare la ranked Eccoci nella sala di attesa, siamo pronti tutti 5 e 5, noi abbiamo un 4 che è il nostro compagno, il lord Vediamo un po', vediamo un po' cosa ci aspetta oggi in questa bellissima partita ranked Ne faremo soltanto due ragazzi perché devo fare i video un pochino più veloci Aia, c'è il volume un pochino alto, mi sa che hanno risettato anche i settaggi dei volumi Speriamo di no ragazzi Dov'è, dov'è lord? Eccolo qua, lol Bello, bello lord Carino C'hai un armor un po' leggera forse, tre Però c'hai la scritta dorata perché Che cosa sei? Che tier sei maledetto? Poi me lo scrivi nei commenti Aia Chi è che mi ha colpito? Maledetto No, 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 mi prendono così Chi mi ha fatto girare? Aia, non lo sto a via per niente Oh, 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 stiamo morendo male Stiamo molto morendo male Ciò non va bene Ci hanno beccato in tanti Perché stanno tutti là poi Eh, no, raga No, 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 non ci sta nessuno dei nostri Eppure lord è morto in pratica Eh, io me la darei a gambe pesanti se ci riesco Ma non penso di riuscirci Anzi, facciamo una bella cosa Tuffiamoci così siamo più sicuri di essere se almeno sopravvissuti Cioè, è un motore D, però Non dovremmo avere lo zompetto, invece l'hanno rotto Porca miseria Quindi stiamo proprio a zero, ragazzi Guardalo, 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 lord Mi sono tuffato di sotto Mi sono salvato Riusciremo a arrivare alla fine della partita, vivi? No, 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 vai via Oh, l'avevo quasi pure preso Eh, no, spara storta adesso Che sto al contrario Ah, cavolo Sarebbe il caso di riuscire a ribaltarmi Se ce la facessi, magari, mi allontanerei un pochino Aia Qualcuno mi ha sparato Lui Aia Due volte Non c'ho più cose per sparare Ma ho tolto pure quelli No, cazzarola Dai, ti prego No, no, no Aia Lasciami in pace, volante cattivo Guarda, pezzo a pezzo mi sta colpì Ti odio Ti odio, ti odio, maledetto Vattene Ok Perché non mi uccidono, boh lord Non lo so, perché non mi uccidono Sono contento che non ci stanno riuscendo Almeno sopravvivo No, il culo ce sta a provare, però Aia Ok, non ci riesci Du Dai, dai, che reggo No Mandatelo a quel paese, vi prego Fatelo fuori Sopprimetelo No Quanto odio tutti gli altri Ma ce ne fosse uno che è arrivato, eh Oh Vai via, vai via, vai via Vai via, vai via, vai via Vai via, vai via, 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 via Così non mi prende Ah, mi ha preso Vabbè ragazzi Ci abbiamo provato a sopravvivere con quelle due, tre ruote Va bene, dai Andiamo a fare la prossima Eccoci all'entrata della seconda partita di oggi Ne faremo soltanto due come vanno vanno Potrebbe venire un video da sei minuti Da dieci minuti Da due minuti Non mi interessa niente D'ora in poi facciamo due video al giorno ragazzi Se ce la faccio riuscirò sempre a tenere No due video Un video al giorno Però due ranked Quindi se gliela faccio Continuiamo in questa maniera Vediamo se gliela facciamo Perché comunque la connessione che abbiamo noi Non ci permette effettivamente di caricare tante cose pesanti Leggo un più di paioventi ma penso sia fasullo E leggo Lord Dremord che invece è al centro Quindi quasi quasi Eccolo qua Col suo carretto Molto carino Uno che mi spara da dietro senza motivo come al solito Per trollare Da lì non arriva nessuno Dal ponte sospeso E oh la giù Boom Ah 15 mila danni Eh però c'è il volante Ne sa in giro Si L'ho visto Però mi preoccupo più di questi A terra Che sono troppi Eh no Stanno appunto a me Non ho preso nessuno Che figo Dai dobbiamo prendere qualcuno Eh si Però troppi volanti Raga No è uno volante Eccolo Marca miseria No sono due E' che i nostri stanno tutti dall'altro lato Scommetto Ah no Ci muoio male Probabilmente ci morirò molto male Eh si Io me la do Me la do Me la do Me la do di corsa Sono rimasto con un colpo in canna No vabbè raga Però non si può Così Gioca con gente random Non si può Spero che molto presto Attiveranno Ste cavolo De Gilde Barra fazioni Barra qualcosa Perché Voglio fare Team con tutti i miei iscritti Non con tre Lord Ramor giustamente dice Odio i volanti E' una cosa che probabilmente Odiano tutti Perché non esistono delle Contromisure Veramente valide Va bene ragazzi Questa puntata E' stata Veramente 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 Corta Quindi Penso che faremo Una terza Dai Facciamone una terza Perché se no Veramente Vi viene nulla Quindi ci vediamo Tra qualche secondo Con la prossima battaglia Rieccoci nella terza Battaglia di oggi Siamo tutti cinque Sei sempre Lord Dremord Quattro Maledetto Maledetto Devi esseri cinque Devi esseri cinque No scherzo Allora Allora Vediamo un po' Dove sta Ficcato Lord Eccolo Laggiù Lo vedo Lo vedo In lontananza Ragazzi Allora Speriamo che almeno Questo riusciamo a vincere Comunque Vorrei dire Mordo Ma non solo Ma non lo faccio Ma ho capito Che volevi dire Maledetto Maledetto Per fortuna Che non lo dici Per fortuna Allora Vediamo un po' Come va questa Comunque Anche se vincete Se perdete Non è detto Che calate Di classifica Perché in pratica La classifica Va in base Ai punti Ai danni Fatti durante La partita Quindi non è Obbligatorio vincere Infatti prima Io ho fatto un calo Di quasi 200.000 E con la Sconfitta precedente Non ho recuperato Di 140.000 Quindi Non è così Difficile Effettivamente Bisogna solo Essere attivi In partita Ragazzi Se vincete Giustamente Da più soddisfazione Arriva pure Qualche punticino In più Però Conviene Essere attivi Per esempio Se vinciamo Senza attività C'è il rischio Che caliamo Quindi Converrebbe Trovare qualcuno Da colpire Solo che Sono troppi Maledetti Volanti Con questo Diamine Di Di animaletto A terra mio Noi Gliela famo A colpirli Ci vorrebbe Un bellissimo Rail Anche Perché la mia Mira In diagonale È un po' Pessima E non Li pigliamo Io prima o poi Ci metto Sopra I cosi I rail Ve lo prometto Oppure Mi faccio Una terra Querelle Oh i volanti Io non li sopporto Ragazzi Qualcuno Mi ha già dato Qualche consiglio Per farlo Ma non so Se sono ancora Pronto A Immeggermi In questo Grande Impiccio Lì ci sta Uno che protegge C'è un volante Che mi spara Spero che fai Una finaccia E uno L'abbiamo eliminato Il problema è che ci stanno I volanti A rompere Ma dai Guardate Chi mi ha ammazzato Un volantino Scemo Con un TR Io scommetto Sotto C'è un TR7 Di arma Perché non può essere Con colpo shot E così Intanto Guardiamoci In questa partita Visto che siamo rimorti Velocemente Lord Dremord Che corre A testa in giù Gustiamocelo ragazzi Dai Vediamoci la partita Così allunghiamo Anche la puntata E vogliamo Lord Dremord È un nostro Fan Quindi Ci sta chiamando Sì sono morto Quello mo si pensa Che se dovemo Permavero No 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 Continua 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 Voglio vedere che fai Adesso Da che ha potato No Sei rimasto così Cioè mi stai dicendo Che adesso Finiamo la partita Con te ha cappottato Dai Girati Sì Non ci riesci Ragazzi Non ci riesci Girati Una cosa Lord Se dopo vedi il video Ricordati Metti quel cosetto Per fare lo zon Po al contrario Mi ricordo come si chiama Lo stabilizzatore Comunque Sì Ti sto vedendo Sì Ti sto guardando Però abbiamo vinto Dai Il team ha vinto Abbiamo dato un po' di punti A Lord Dai Bella Lord Rieccoci nel plateau Anzi nell'attesa Quindi Nell'hangar E i nostri punti Sono calati Diciamo Tra queste due sconfitte Anzi Queste tre sconfitte Perché sono morto tre volte E siamo andati a 1.637.457 Prima stavamo a 1.700.000 E qualcosa Stavamo più vicini Va bene Succede Però ci siamo alla fine divertiti Anche se c'è stato un po' di rosic Perché giustamente Sta gente di tier superiore Che viene in tier inferiore A giocare con armi più potenti E è una cosa Un pochino Io dico Sbagliata Mi invitano intanto In altre partite Io direi una cosa Ragazzi Secondo me Dovreste fare una bellissima cosa E mi No se no Finisce l'ammazzo E Dovrebbero Secondo me Evitare Appunto di Dare la possibilità Di entrare con tier superiori In altri tier Così almeno sarebbe Equilibrato il combattimento Una piccola critica A un gioco Fatto veramente bene Quindi ragazzi Se potete Modificare questa cosa Probabilmente sarebbe meglio Allora ragazzi Questo era il video Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Condividetelo Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Veniteci a trovare Su Robocraft Tanto il mio nick Si vede Quindi non è che ci vuole tanto È Mordug E così posso anche Aggiungervi in qualche plato E giocare con voi E niente Ci vediamo Alla prossima puntata Di Robocraft Ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti